L'interno 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 Per raccordare la basilica michalangestica con il corpo longitudinale seicentesco. Qui si svolse a lungo il rituale del bacio del piede, della salma del papa defunto, cioè l'ostensione ai fedeli delle spoglie mortali dei pontefici defunti, prima dell'eseque. L'ambulacro L'ambulacro, ovvero lo spazio che circonda i quattro pilastiche sorreggono la cupola, introduce verso il cuore della basilica così come l'aveva pensato Michelangelo Bonarroti. Notevole il monumento a papa Alessandro VII, opera del Berlini, in cui il papa è mostrato assorto in preghiera, con la morte raffigurata da un scheletro che sorregge una clessida. Che precede una porta, il simbolico passaggio verso l'aldilà. I transetti I transetti caratterizzati da nicchie, sormontate da ampi finestroni rettangolari, osperano altari e statue di grande valore. I transspeed I transuzzy I transbstrettati da gente I transằgare da mon sichde I trans vibra I trans immigrati I trans Reese Grazie.